Ah, è chiaro che sei qui. Avanti, esci fuori, dovunque tu sia. Sei tu, piccolo uomo? Un coltello. Ma che va da pensare? Un coltello. Un coltello. Un coltello. Un coltello. Un coltello. Ma non camminano i pupazzi di legno. Si sarà fulminata la lampadina Sì, 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 sì. Oddio Pronto, mi dia la polizia Non ho importanza chi sono, mi dia subito la polizia Non ho importanza chiGE Prezzo Non ho, non ho Non ho, non ho Non ho, non ho Non ho, non ho non è vero non 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 Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 Sì.